amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo del tremendo dramma per il mondo dello sport e più nello specifico per il mondo del calcio a 5 a soli 39 anni è scomparso nicola basile era un calciatore di calcio a 5 dell'avis capaci il calciatore è stato colpito da un malore lo scorso 12 febbraio durante una partita e nella giornata di ieri 28 febbraio 2022 ha perso la vita nicola lascia la moglie e quattro figli amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti